Musica Amici di Rete55, eccoci ritrovati sulle nostre frequenze in televisione, sui nostri canali social tra l'altro canali social che ci stanno dando delle soddisfazioni incredibili perché ragazzi siamo felici perché ci stanno vedendo in tanti anche non solo sugli schermi Rete55 ma anche sui nostri canali Bianco Blu Rete55, ricordatevi Buonasera Andrea Macchi Buonasera Buonasera Paolo, che piacere vederti perché sai vederti allo stadio è una cosa ma vederti L'abbiamo convinto Eh, perché non era facile Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato a questa bella trasmissione Ci mancherebbe E Alessandro Bianchi Ciao Ale Allora, no perché sai noi questa settimana è stata una settimana gli ultimi giorni un po' tranquilli ma all'inizio, i primi due giorni sono stati davvero difficili Andrea perché c'è stato tanto movimento tanti... eh? C'è stato tanto movimento soprattutto sui social perché comunque dopo la sconfitta in casa la prima partita ormai sta diventando una tradizione una tradizione una tradizione speriamo, come ho detto, che porti bene insomma, la gente è un po' rumoreggiato sicuramente ci si aspettava qualcosina di più dal mercato giustamente la società ha sempre fatto il passo lungo quanto la gamba e quest'anno non farà eccezione ci si aspetta quantomeno un'altra punta questa è il Vox Populi e quindi c'era un po' di maretta più che altro per essere numericamente a posto non... solo per quello Ale, allora tu come hai visto la partita? un po' d'agitato? un po' non... sì, ormai sono il fratello calmo di quello che era un tempo quindi sono tranquillissimo comunque vada sono rimasto tranquillo sono rimasto anche male oltre che tranquillo purtroppo per una sconfitta che poi neanche mi aspettavo tanto nel durante della partita la Pro non ha creato tantissimi pericoli ha provato a tessere tante trame di gioco e nel momento più difficile nel momento X il Renate appunto ha vinto anche con i cambi la cosa che mi fa tra virgolette ma neanche tante virgolette contento è quanto si parla di Pro Patria ultimamente sui social ovviamente tanti tifosi non sono contenti ma comunque quando se ne parla e non la si lascia lì da sola secondo me è un piacere poi adesso arriva la chiusura del mercato che poi è solo apparente perché per gli svincolati non chiude il mercato assolutamente tra poche ore quindi volendo la punta che manca piuttosto che i giocatori che i tifosi chiedono possono arrivare anche dopo la chiusura del mercato per tutti staremo a vedere e aspettiamo prima appunto di andare a Gorgonzola allora come abbiamo già detto l'altra settimana noi quest'anno la nostra trasmissione vorremmo impostarla tanto sui tifosi cioè di avere ospite sempre qualche tifoso oggi abbiamo Paolo e comunque chi volesse basta che ci contatti allo stadio la domenica ci chiami sui social ci chiami il telefono tanto ci conoscete un po' tutti perché vogliamo sentire parlare viva la voce chiaramente sempre con educazione ma con le critiche giusto Paolo? Sì le critiche la Pro Patria quest'anno mi sembra che è stata costruita un po' così in maniera abbastanza avventata ecco diciamo così che sì è stato creato un buon supporto a livello difensivo se vogliamo parlare proprio nel tecnico a livello difensivo e il centrocampo mi lascia un po' così perplesso ma non sto dicendo che è un centrocampo che non avrà un risoporto positivo e purtroppo come tutti ben sappiamo la nostra lacuna è lì davanti lì davanti purtroppo io devo essere sincero lo dico chiaramente non siamo manca manca qualcosa che possiamo far male allora riguardo la partita di domenica Andre così parliamo al volo due minuti della partita di domenica io la cosa che ho visto su la pagelle che hai fatto tu le pagelle che hanno fatto altri giornalisti cioè non siamo giornalisti specificiamolo ma che hanno fatto i vari giornalisti al nostro numero uno a proposito del numero uno devo salutare sua nonna ragazzi no perché in tribuna mi ha detto io vi vedo sempre e noi abbiamo detto e noi la vediamo sempre tutte le partite allo stadio trasferta e non trasferta quindi complimenti per la sua perseveranza nel venire a vedere suo nipote e allora però ogni tanto mi saluti va bene allora l'abbiamo salutata giusto ci mancherebbe no dicevo William ha preso SV che vuol dire senza voto allora se il portiere prende senza voto anche il portiere del Renate perfetto assolutamente sì anche se ha fatto due o tre uscite che ci poteva anche dare una mano però voglio dire è stata una partita sulla carta ce la sono giocata tutte e due hanno cercato di giocarla tutte e due hanno fatto un tiro in porta il Renate e ha vinto la partita sul nostro errore però voglio dire è chiaro che volevamo qualcosa in più ma siamo tutti sicuri ma l'altra domanda che io ti faccio a te che io facevo allo stadio domenica perché tutti la punta la punta è vero ma chi all'inizio del campionato dell'anno scorso scommetteva uno su un difensore fantastico che è diventato Moretti e che arrivava da una stagione che aveva fatto pochissime presenze alla Pro Sesto l'altro Castelli che in tutti i tre anni a Busto non ha fatto 13 gol chi scommetteva che avrebbe fatto 13 gol l'anno scorso e vabbè ma ci vuole la punta va bene ok allora io mi fermavo però voglio dire è la verità che ci vuole la punta è vero sì allora diciamo che Castelli era arrivato al termine di un processo di maturazione che è avvenuto solo grazie alla Propatria e chiaramente al suo impegno e quindi ne ha raccolti i frutti l'anno scorso sì i due portieri praticamente mai impegnati il Renate però ha fatto gol tra l'altro con un subentrato lì si è proprio vista la differenza di caratura della Rosa di profondità della panchina poi qualcuno si è offeso secondo me ci sono dei giocatori della Propatria che molto spesso commettono degli errori tecnici individuali che a questi livelli si pagano quindi la differenza la fa non chi fa la giocata migliore ma chi sbaglia meno noi in tre partite ufficiali abbiamo fatto un gol con Pitù su un erroraccio della difesa della Pergolettese è un dato di fatto certo è la verità assolutamente ne sono discute Paolo anche tu quando tutti insultavano perché è inutile che ci nascondiamo dietro qualche parolina a un nostro esterno destro gliel'abbiamo detto perché insomma gliene abbiamo dette qualcuna ma non devi arrabbiarti insomma se te lo diciamo perché anche a Castelli gliene abbiamo dette quante volte ne sbagliava i gol gli anni prima e poi l'anno scorso guarda cosa ha fatto probabilmente anche per te ci vorrà un periodo di maturazione che spero arriverà che arrivi però nello stesso tempo quando fa un errore bisogna essere obiettivi e riconoscerlo l'errore assolutamente sì ma fa sempre parte di una crescita il fatto anche l'errore fa parte sempre di una crescita basta che non le fa più però assolutamente perché questa la crescita vuol dire quello sì 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 però ovviamente deve essere una cosa continuativa ma che va verso un positivo nella sua impiego nel campo certo Ale anche tu giusto ma così ma buonariamente perché noi quello che vediamo lo diciamo perché non è che siamo ciechi o vogliamo non dire le cose noi le diciamo le cose come le diciamo allo stadio le diciamo qua perché per l'amor del cielo sì tra l'altro insomma abbiamo anche iniziato bene la partita con una bella diagonale a salvare una buona occasione per il Renate poi purtroppo ha dato una palla sanguinosa a Mallamo che non è riuscita a controllarla da lì poi è partita l'azione da gol del Renate forse per quanto riguarda la voce del popolo ci si aspettava rinforzo anche a causa o grazie alla cessione di Castelli Andreca avvenuta per acquisizione del cartellino durante il calciomercato che ripeto chiuderà domani ma non per gli svincolati perciò magari ci si aspettava un rinforzo davanti rinforzo davanti che magari visto che settimana scorsa abbiamo detto secondo portiere non è ancora ufficiale tempo di finire la puntata è stata ufficializzata magari porta bene e alla fine della registrazione magari questo pezzo di puntata è già vecchio e arriverà la punta tanto desiderata speriamo e chissà che non sia Beretta che abbiamo visto sugli spalti in Coppa Italia quindi secondo portiere Petrelli giusto e poi ha rinnovato P2 esatto quello è proprio un colpo di mercato perché lì diciamo che non mi sono tanto trovato d'accordo con i commenti che ho letto rinnovare un giocatore come P2 sai ero preoccupato quando mi sono trovato d'accordo sul rinnovo ho detto Alex avreste dovuto espellermi seduta stante la trasmissione sarebbe stato giusto ho letto qualche commento che guardava già la cessione forse sì sta di fatto che allungare il contratto così tanto a un gioiello come P2 significa avere il coltello della parte al manico in fase di trattativa e non è poco però dico una cosa controcorrente P2 gioiello però su quello mi associo le parole che aveva detto Colombo durante l'estate bisogna fare uno step in più deve essere in una partita come Propalti e Arenate P2 mi deve fare la giocata decisiva che ci porta sull'1-0 o che dà il pallone per l'1-0 ecco proprio davanti ai nostri occhi nel primo tempo lui ha fatto quel numero che è andato in mezzo a 3 deve farlo al limite dell'area quel numero lì capito però al di là di quello non so io adesso ve la butto lì perché noi stiamo parlando ancora di quello ma ragazzi capiteci è stata una settimana così e quindi per noi stiamo parlando tanto di questa partita e non di tante altre cose che volevamo parlare eccetera però ci può stare secondo voi uno come P2 deve avere degli ordini in campo o deve far quello che vuole andare in giro dietro le due punte e fare quello che vuole due punte ho detto due cioè non giocare con una punta nel pensiero di tanti Paolo Paolo per me P2 è il nostro gioiello cioè il numero uno dell'undici ad oggi anche perché quelli nuovi che sono arrivati onestamente non li conosco benissimo e quando non conosco benissimo un giocatore aspetto un attimo a esprimere un mio giudizio per me P2 è stata forse la migliore operazione di mercato di quest'anno avendolo fatto firmare per i prossimi anni va bene sì la cosa che ha dato fastidio diciamo i commenti leggendo i commenti sui social sono state le parole a fine partita quasi che si fosse soddisfatti della prestazione di come fosse andata la domenica invece secondo me ha ricalcato l'esordio dell'anno scorso con la Giana non ho visto grosse differenze quindi bisogna fare diversi step di crescita una Giana che appunto andiamo a incontrare domani è subito ce l'abbiamo subito lì la Giana che tra l'altro ha fatto la sua bella partita la sua bella figura a Vicenza sì a Vicenza in Coppa Italia è una Giana che è veramente partita bene ha fatto un mercato particolare se posso dire ha pescato tanto dalla Serie D è strategia che ha funzionato lo scorso anno perché a Chiavari insieme a Andrea Castelli è andato anche a Feranzoni che l'anno scorso la prima giornata aveva rubato bene l'occhio così come ha fatto per tutto il campionato era un giocatore sconosciuto che è volato così come neanche a parlarne Fumagalli prima il Como poi il Cosenza quindi ha un pochino ricalcato il mercato dell'anno scorso ha preso un nostro ex primavera che ha vinci e poi soprattutto ha preso un personaggio detto in modo positivo un calciatore molto conosciuto sul web che è Trombetta che è molto conosciuto dai più giovani per i vari tornei che ha fatto in streaming su YouTube e non solo la Goat League non sono informato comunque era un centravanti di Serie D che è volato nel professionismo Gianna che ha iniziato molto ma molto bene però domani la propria deve fare punti perché rimanere a bocca asciutta dopo la Gianna con in arrivo e la Feral Pissalò e il Vicenza e il Novara non fa bene preoccuperebbe alimenterebbe voci pessimiste quindi fare punti punto e basta oh questa è la cosa più bella no insomma staremo a vedere a proposito c'è il Pullman domani assolutamente partenza ore 16 dallo stadio quindi saremo un buon numero anche domani meno male dai questo è quello che conta perché l'importante come dicevano i vari ragazzi che ho letto nei vari social della Curva l'importante è esserci a tifare la nostra prova diciamo che l'anno scorso la trasferta di Gorgonzola era stata un po' uno spartiacque che aveva fatto rialzare la testa dimenticare un brutto girone d'andata e chissà che non possa essere un ennesimo spartiacque per ripartire con calma e poi magari andare a Gorgonzola o comunque svegliarsi lunedì con una punta in più allora Paolo tu hai detto che non conosci bene i nuovi però uno come in difesa come il nostro perno difensivo è a me l'occhio un po' la rubana Alcibiade Alcibiade dico la verità è stata una novità per me perché è un nome che probabilmente l'avevo anche sentito in passato ma non lo conoscevo proprio a livello dei numeri insomma ha una tranquillità un'esperienza che a volte magari un po' troppo tranquillo perché ci fa un po' così però ha la sicurezza comunque già il nome Alcibiade ti dà proprio quell'impressione di quel difensore roccioso che ti fa quasi io ho anche i nomi non so hanno una loro valenza chi lo sa qualche volta è vero sono d'accordo è la verità come ad esempio Basci Basci fisico incredibile tranquillità incredibile il suo l'ha fatto insomma sì abbiamo avuto forse qualche problemino sul braccetto di sinistra con Cavalli che non mi ha convinto del tutto e infatti speravo riuscisse a recuperare Travaglini forse Cavalli è meglio da perno eh vabbè allora vedi che arrivo alle quattro difensori come volevo come mi piacerebbe a me vedere giocare e Malcibiade a quattro in linea secondo me fa fatica però vabbè due vangate chiamiamo qualche modo si fa l'esperienza ce l'ha insomma no vabbè noi ognuno di noi dice la sua ragazzi siamo ci teniamo veramente troppo alla nostra prova quindi di conseguenza si cerca di trovare un escamotage un qualcosa ma poi abbiamo i nostri tre lì che vedrai che ce la faranno a trovare la soluzione i tre intendo il piedino dorato l'ex capitano gli ex capitani perché anche Fietta oltre che Arnichi ah ok io pensavo i tre davanti no i tre giocatori mi hai ingannato anche a me eh vabbè insomma io li sempre per me sono sempre giocatori sì domenica abbiamo sofferto tanto anche in mezzo sia Mallamo che Nicco hanno fatto molta fatica e magari domani ipotizziamo una formazione rientro i travaglini al posto di cavalli a destra piranna a sinistra eh vallica e poi è probabile magari l'utilizzo da subito eh di Terrani anche se io rimango molto scettico eh rispetto al suo utilizzo come uno dei due trequartisti sì anche perché anche sull'altro trequartisti sul 3P2 che è Meic ma non solo di lui ci sono state proprio voci contrastanti tra i tifosi a chi è piaciuto a chi è piaciuto solo in parte diciamo che appunto le voci sono contrastanti concordo con Andrea quando ha detto della mediana certo è che un giocatore come Mallamo prendo le parole di mio papà anche quando non gioca benissimo si vede lo stesso che di un'altra categoria e speriamo di averlo tutto l'anno tutto l'anno non come l'anno scorso perché una squadra come la Pro il campionato di una squadra come la Pro dipende anche dall'infermeria che speriamo si svuoti presto visto che ci sono già Palazzi Reno e Lombardoni ecco diciamo che Palazzi era una delle nostre ciliegine del calciomercato in mezzo al campo chiaramente ha questo problemino speriamo che in 15 giorni si risolva e quindi non male Meic secondo me il secondo tempo mi sembra che sia però non mi sembrava brillante questa è la mia idea cioè non mi sembrava sciolto nei movimenti un po' da sgrezzare un po' un po' da sgrezzare probabilmente vabbè quello è un altro discorso però mi sembrava un po' impacciato magari la prima partita ufficiale magari un po' così però secondo me ha grandi potenzialità bisogna capire bisogna capire anche se quello è il suo ruolo più congeniale anche io inizio ad avere dei dubbi anche sul fatto che Palazzi possa rendere giocando a due mediani a centrocampo vedi che io ritorni alla mia idea ma che per l'amor del cielo ho un'idea di noi tifosi di un tifoso cioè io ma no sono da cose sono già in due per l'amor del cielo ti dico già in tre vabbè ho visto un Beppe scatenatissimo io infatti abbiamo avuto una bellissima discussione vabbè insomma Beppe è sempre Beppe ci tiene ogni tanto esagera però tante volte lo sogno ancora in campo io io non intendevo Beppe Lenocci io intendevo Beppe Marcoli in questo momento pensavo a Beppe Lenocci perché vabbè a volte non è giusto alzare troppo la voce però quell'ora e mezza lì in campo magari in tribuna meglio si dicono delle cose che non si vorrebbero dire ma insomma più che altro sembrava un déjà vu la sconfitta in casa 1 a 0 l'avrò vista da quando seguo la propria tra 15 volte sempre la stessa trama e domenica anch'io ho perso un po' le staffe alla fine io ciò vale essere il risultato dell'anno scorso ci starei benissimo certo tu Paolo ti ricordi un certo propatria Venezia sto parlando che faceva l'allenatore il Debe qualche anno fa che siamo partiti l'anno di Rondanini cacciato via che siamo partiti alla stragrande hanno fatto una partita bellissima e poi abbiamo preso gol perché sono entrati cioè il Venezia era una squadra che doveva giocare non in serie C ma già in serie A così quando giocava Boccalone no nella preistoria io sto parlando della preistoria ammetto che questo almeno 30 anni fa no sinceramente non lo ricordo non ce n'è più ci sono passati così tanti vabbè comunque comunque Mauro per concludere hai detto bene c'è chi perde le staffe c'è chi litiga c'è chi discute perché comunque lo noto soprattutto negli ultimi giorni anche per un po' di preoccupazione per la squadra ci sono piazze che fanno all'improvviso migliaia di spettatori in più ma quando si parla di probate c'è gente che veramente ci tiene quanto tiene alla propria casa la propria vita eccetera quindi benvenga questo rialziamo la testa tutti insieme per un campionato tranquillo e piacevole per tutti ecco siamo in fondo non potevamo e soprattutto io non potevo non salutare Franco Bazzani perché ragazzi per me è stato storia storia o quasi io uso il termine calcisticamente parlando quasi un secondo padre perché quando anch'io giocavo lui faceva l'accompagnatore eccetera eccetera per me Franco Bazzani e la sua signora sono stati veramente di una simpatia in mane e abbiamo fatto tantissime giornate bellissime con loro eh sì li vedevi in tribuna io sempre quando c'era la partita vedevi il Bazzani e la sua signora ti davano già quel senso di sicurezza ci siamo ci siamo è la domenica Paolo grazie mille della presenza un abbraccio la famiglia del presidente per legare assolutamente a tutti e Andrea ci vediamo domani a Gorgonzola ore 18 contro la Giana una partita ah le ha parlato già di spartiacque magari speriamo di no speriamo di no però ci aspettiamo una reazione importante perché dopo come hai detto ce la ferralpi in casa e poi noi ci vediamo settimana prossima perfetto sempre da questi schermi grazie a tutti amici in rete 55 e appuntamento sui nostri canali social seguiteci e commentateci buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sorrisi